E dove arriverà I Love Disco? In tutto il mondo. Andiamo a vedere le immagini del nuovo evento di I Love Disco che si è tenuto ieri sera al Tenax. E dove arriverà I Love Disco che si è tenuto ieri sera al Tenax. E dove arriverà I Love Disco. E dove arriverà I Love Disco che si è tenuto ieri sera al Tenax.